ciao ragazzi fatemi sapere come registra questo bellissimo smartphone sta scendendo peppe comunque giuseppino ti devo fare provare una cosa e tu devi dare un giudizio qui ai ragazzi di youtube prendi quel giustico di game stop buttati nelle mani sul joystick sono riuscito ad aggiudicare una playstation 4 dalla germania che lo mette e non ho pagato un cavolo come ti sembra questo giustico rispetto a questo deve essere sincero rispetto a questo quale ti piace di più apparti scherzo come se c'nasti e questi questi sono concavi concavi la croce direzionale meglio questa questa cosa unita che ti viene male e questi allora ragazzi chi vince tra il joystick di 30 euro della gamestop e quello 10 euro della xd quello da 10 euro cara gamestop diglielo ai gamestop e dico allora praticamente con la playstation usata e ci veniva il doppio diccelo peppe di chi da caccattamo nuova quella che abbiamo preso nuova e costata la metà la gamestop usata volevano il doppio di io non si può più ragazzi ci vediamo al video delle spacchettamenti al prossimo video